Ma cos'è? Buonasera siamo qua con la star di una poltrona per due Vabbè comunque Pietro per favore Pietro per favore mischia il mazzo Bravissimo Ora Premi la carta quella che vuoi Ok Ok E la mettiamo più o meno verso metà mazzo Ok Ma visto che più o meno verso metà mazzo adesso dove Allora andiamo a fare un po' di tagli per andarla a sferzare Ora Immagina Che la tua carta sia diventata invisibile Anzi immagina Che pian piano Spariscano tutti i colori dalla carta Allora abbiamo una carta bianca e mezzo al mazzo Ora immagina che anche il bianco sparisca e la carta sia invisibile Non impalpabile È invisibile quindi c'è ma non la possiamo vedere Allora io te la farò anche vedere dov'è più o meno Aspetta usiamo il tavolino Perché è più o meno In questa zona qua La vedi? Prendila Ciao Fabio Ora Vedi che qua Dimmi se vedi la tua carta ma Non c'è perché è sparita nel tuo mazzo Scusa Scusa Cameraman Qui Quindi qua non c'era Per evitare di fare confusione La giriamo Faccio in su questo Faccio in su in modo che Ok? Andiamo a cercare La tua carta Dimmi se vedi la tua carta Ovviamente la risposta è no Perché mi seguire ma voglio dimostrati Che la carta è sparita Assolutamente Dal mazzo Si Ora, per farla riapparire, devi darmela, metti la tua inizio al mazzo qui. Aspetta, girava al contrario. Ti hanno messo sopra, aspetta. Ma tanto è invisibile, adesso vedi. La tua carta è tornata visibile. Cosa? Cosa? Ma cosa è? Cosa? Cosa? Cosa?